Il convegno di oggi era un convegno con un focus e un'attenzione specifica sulla gestione della vegetazione riparia, che è un tema molto interessante e che a volte vede anche contrapporsi posizioni differenti. Noi l'abbiamo affrontato oggi cercando di guardarlo da più punti di vista. Sicuramente sotto gli occhi di tutti l'importanza della manutenzione dei corsi d'acqua. L'abbiamo visto in momenti in cui le precipitazioni copiose e i cambiamenti climatici hanno messo a dura prova il nostro reticolo. Però il nostro reticolo ha retto, ha retto grazie alle manutenzioni che il Consorzio e tutti gli operatori coinvolti fanno. Bisogna però interrogarsi su come si fa questa manutenzione, perché la manutenzione deve essere volta a una sostenibilità ambientale che dobbiamo ricercare. Una sostenibilità ambientale volta la salvaguardia del patrimonio naturalistico incredibile che i nostri corsi d'acqua proteggono e rappresentano nel nostro territorio. Considerando anche che i nostri corsi d'acqua sono un indicatore importante nel paesaggio toscano così tanto ammirato in tutto il mondo. Quindi considerando tutto questo abbiamo anche pensato che il contratto di fiume è uno strumento per mettere a focus anche le considerazioni che abbiamo fatto questa mattina. Considerando anche che quando andiamo a lavorare nei corsi d'acqua rendiamo un corso d'acqua più fruibile, più fruibile al cittadino che se lo può fare più suo. E da lì possono nascere anche iniziative proprio per la fruizione e la vivibilità di questi territori. Ecco che allora l'importanza di un contratto di fiume come quello di Civischiana che mette insieme più soggetti per valorizzare un territorio e per manutenerlo in maniera più oculata e migliore. L'Ambi promuove la norma sui contratti di fiume a livello nazionale. L'Ambi nelle regioni che sono state più sensibili immediatamente ne promuove una serie e si pone con i propri consorzi di bonifica a capofila di molti contratti di fiume. E questo ci rende anche protagonisti nel tavolo nazionale sui contratti di fiume. Qualcosa di importante questo perché in un paese che si divide su tutto, in un paese dove non nel mio giardino è diventato un motto operativo, fa diventare il contratto di fiume uno strumento innovativo di partecipazione e condivisione preventiva degli obiettivi e della trasformazione di questi obiettivi in strumenti di crescita collettiva, di occupazione e di economia. Credo che si possa essere orgogliosi anche del contratto di fiume di cui stiamo parlando oggi qui ad Arezzo. Grazie a tutti.